Compare anche in un fascicolo di droghe e rapina approdato sul tavolo del Jeep di Perugia, il nome del 33enne domenicano arrestato nei giorni scorsi per la morte del connazionale Joel Ramirez Seipo, colpito con un arghile fuori da una discoteca di Terra Nuova Bracciolini. Il 33enne viene accusato di aver ceduto per 4 anni, dal 2016 al 2020, con cadenza quasi giornaliera, cocaina, ad un cittadino tunisino, ogni dose venduta a 50 euro. Ma non solo, nel settembre del 2020, si legge sempre nella richiesta di rinvio a giudizio, assieme ad altri tre domenicani avrebbe cerchiato e percosso il proprio cliente, prima in piazza del Bacio a Fontivegge, poi ha raccontato la vittima di essere stata caricata forse in auto, legata ad un albero ed abbandonata, riportando la frattura delle ossa nasali, abrasioni e contusioni multiple, giudicate guaribili in un mese. Sarebbe stata infine rapinata anche del cellulare. Insomma, nuovi guai per l'uomo già in carcere ad Arezzo, con l'accusa di omicidio volontario, oltre che rissa in concorso.